1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, le gambe centrali erano 100 incrociate, se siete così, questo è il secondo, se l'apertura siete così, questo diventa un tanto il problema, perché comunque lo valeriamo da via, 1, 2, 3, 5 per il 7, ora, se l'uomo fa questo, è un casino, se l'uomo invece canta solo il peso e questa mano la porta avanti, siamo qua tutti giù, se vi ha fatto un mambo step, preso a destra, tendo a sinistro, io preso a sinistra, tendo a destra, avete un ponte per farlo entrare, dentro, 1, e qua è la 7, è la mano dietro, l'altra, l'altra dietro, l'altra sul fianco, sull'8, sul 7, la banderina alza la gamba e ruota la testa, la riporto giù e andiamo in base, 8, 8, 10, noi siamo su 7 così, 1, apertura, 2, 3, 5, 6, 7, scatto, torno 8, base 2, 3, 8, che non è un castello, non è questo, non state attento, questa è una posa, 5, 6, 7, 8, 1, 1, e va, via, 1, 2, 3, 5, 3, 1, 7, ora, apertura 1, adesso le gambe facendo, sinistro, 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 marcano tutti i pesi e vengono verso l'uomo, 1, 2, 3, 5, 6, ora, la gamba destra è ferma, la sinistra si alza con la punta sul ginocchio dell'uomo, questo è il 7, con la mano destra, il banderino che è ancora dritto, non è ruotato, riporto giù la dama e torna tutto il peso a destra, io, questo si mi sparei, base, e torno a guardare.